Musica Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Ruby e sono qui per parlarvi di In It Me Il terzo volume della saga di Terrain Mafi La posso chiamare la signora Mafi Che tra l'altro ho scoperto essere la moglie di quello che ha scritto la casa per bambini speciali di Miss Peregrine Io in libro l'ho letto ma non mi aveva convinto più di tanto Magari lo recoprenderò in ebook perché l'avevo letto a metà Comunque la cara mogliettina Terrain Mafi che tra l'altro ho scoperto essere anche incinta Sotto vi lascerò il link della pagina facebook di Shattermy Dove si può fangirlare, io fangirlo anche se non sono una girl e ho 30 anni Questo libro è stato una scoperta È uscito l'11 di maggio, io sono andato in libreria il 12 Lo stavo cercando disperatamente, ero come una iena dentro la savana che stava cercando la carcassa A un certo punto la tizia l'ha messo lì e l'ho preso Comunque se avete la testa della Feltrinelli ed è ancora una novità perché è uscito da poco Avete il 15% di sconto oppure lo potete trovare su Amazon con il 15% di sconto Il prezzo di copertina se non sbaglio dovrebbe essere di 17€, controlliamo 17,50€ Allora Shattermy è una saga che non era partita tanto bene Nel senso che io avevo detto che c'erano delle cose che non mi avevano convinto Delle cose che mi avevano convinto Comunque volevo continuare la saga Il secondo volume mi è piaciuto veramente tanto Il terzo invece è stato wow È stato bellissimo Finalmente si risolvono tante cose Vediamo che personaggi non sono quelli che sembrano Se Adam e Warner C'erano presentati in una determinata maniera Adesso si ribalta completamente il tutto I sentimenti della nostra cara Juliet vengono messi a dura prova E Adam io l'avrei preso a schiaffoni Perché Adam è un deficiente Cioè Adam si mette a fare il bambino dell'asilo Che vuole il ciuccio ma la maestra gliel'ha portato via È un cretino Io l'avrei preso a sprangate Mentre va Warner che era presentato nel primo come un dittatore Come tutto d'un pezzo, come cattivo eccetera In questo volume vediamo tante cose Ci vengono spiegate tante cose Ci viene spiegato il perché e il per come determinate cose E non è tutto oro quello che luccica Quindi Warner è stato un personaggio veramente molto interessante Mi è piaciuto veramente tanto E mi è piaciuto anche il fatto che la protagonista Abbia un amico O comunque abbia una voce Come quella di Pinocchio Che insomma le sta da una scrollata Perché il primo volume è andato come è andato Nel secondo volume anche lì la cara Juliet faceva un po' i capricci Warner l'ha presa di petto e gli ha detto Senti bella te devi da una svegliata E diciamo che va a Warner È la coscienza di Juliet E finalmente in questo volume prende consapevolezza Prende in mano la situazione E finalmente cioè Le protagoniste devono essere così Porca miseria Cioè che partono in una determinata maniera Ma poi hanno un'evoluzione Io ho amato molto Juliet rispetto a Kelsey Quella di The Queen of Touring Perché è umile E non è presuntuosa Non si monta la testa È una protagonista che è spaventata Che deve capire determinate cose E finalmente le capisce Ed è questa la cosa che mi è piaciuta veramente tanto Un'altra cosa che mi è piaciuta molto È il triangolo amoroso Team Adam o Team Barner Nel senso che sta tizia Insomma è un po' presa da tutti e due Sia da Adam che da Warner Per motivi diversi E lei sta un po' a decide Se sta con uno sta con l'altro Ma voglio sta con quello Voglio sta con quell'altro Insomma sta un po' in Sta un po' sul filo del rasoio E devo dire che il triangolo Gli amorosi devono ritornare Qualcuno mi ha detto Una ragazza che mi segue Vabbè ma il triangolo amoroso è noioso Perché alla fine la tizia si sa dove va a parare Sì avete ragione Nel senso che in alcuni contesti Si sa che la tizia va da quella parte Piuttosto che da un'altra Benissimo Però almeno la storia è interessante Cioè in molte realtà C'è la tizia che si innamora del figone Dopo tre secondi Tre Si dichiara un amore eterno E poi un continuo lasciarsi Prendersi Lasciarsi Avere titubanze Lui che gli fa le battutine porno Eccetera eccetera Tra l'altro poi lo stalking E quant'altro Qui invece È un triangolo amoroso Che ti tiene sulle spine Perché tu non sai Se lei vuole stare da una parte O sta dall'altra Perché fino alla fine del secondo volume Questo non è palese Mentre in altri contesti era palese Che magari la protagonista Sceglieva Tizio Al posto di Caio Ma poi c'era anche Semprogno Ma non se lo cagava nessuno Però devo dire che Qui La tensione è alta Dal primo volume All'ultimo volume La tensione è altissima E credo Che il triangolo amoroso Deve ritornare Fatelo ritornare Questo cavolo di triangolo amoroso Perché porca miseria Cioè almeno Dà un po' di pepe Alla situazione Dà un po' di coso Cioè Una cosa scialba Il fatto che Questi due Per cinque volumi Si amano e si odiano Si amano e si odiano A seconda delle fasi unali Dopo un po' può stufare Qui invece abbiamo una protagonista Divisa tra Un Adam Che sembra Primuroso Gentile Di qua di là Che poi si rivelerà Tutt'altro Perché ripeto In questo volume Fai capricci E un Warner Che ha la parte oscura Che ha un lato scuro Che viene presentato In una determinata maniera Che poi alla fine Non si rivelerà così Quindi mi è piaciuto Veramente tanto Questo volume Cinque stelle su cinque Meritate Complimenti Alla cara Tyren Mafi Io recupero Gli altri tre in cartaceo Perché devo assolutamente Prenderli E cosa dire Io sono entusiasta Di questo volume Poi vi farò un video Dove vi parlerò Di tutta la saga Comunque Vi ho già detto Insomma Quelli che sono i pregi Di questa saga Però devo dire Che c'è anche Dei difetti Perché bisogna dire Il bello e il cattivo tempo Comunque vi farò Un video poi Dove vi parlerò In generale Della saga Che nonostante i difetti Io vi consiglio Ripeto Non è un capolavoro Perché io comunque Ho letto anche di meglio Nel senso Però Merita Di essere letta O comunque Se avete letto Solamente il primo volume E non vi ha convinto Tra l'altro Io ho parlato anche Con delle persone A tempo di libro E ho detto No il primo volume Non mi ha convinto Perché ci sono dei buchi Di petrano È una cosa assurda Cosa che io ho rispettato Però continuatela Perché secondo me Merita Merita Nantissimo Anche perché va a migliorare Nel secondo volume Comunque Di Shatter Mi uscirà anche Una serie televisiva Per Netflix Credo Spero Perché adesso La sesta serie Simulfa Stanno facendo su Sky Figuratevi Comunque Uscirà una serie televisiva È stato ufficializzato Dalla pagina Facebook Che vi lascerò qua sotto E la cara Tyra e Mafi Ha deciso di scrivere Altri tre volumi Quindi non sarà più Una trilogia Ma sarà una sessologia Si dice sessologia Sexologia Vabbè Comunque ci saranno Altri tre libri Il quarto uscirà Marzo 2018 Adesso Tempo marzo 2018 Mi dimentico Praticamente tutto Quindi me la devo Ampiamente rileggere Parlerò anche di questo Nel video dove vi spiegherò tutto Questo video era solamente Per fare Le ultime impressioni Su questo libro Che mi ha tenuto Con il fiato sospeso Dalle prime pagine È bellissimo Io ve lo consiglio Leggete 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 Perché è assolutamente eccezionale Molto bene Il video è finito Fatemi sapere voi Se avete letto questo libro Fatemi sapere voi Cosa è il pesante della saga Io vi saluto E vi rimando al prossimo video Ciao